Sono orgogliosa di partecipare a questa serata organizzata a Padova per sostenere la campagna Unione Civili, anche perché credo molto nell'importanza che ognuno di noi abbia la possibilità di avere vicino una persona, soprattutto poi nei momenti difficili della vita. Per cui credo che sia importante raccogliere molte firme e pensare un po' veramente a tutti in maniera non più solo individuale ma molto collettiva.